Quindi zagato no, con l'alieno? Perché no? 24 ore con un alieno? Magari a Smash, raga. E' il mio prossimo fidanzato. Diamo un'occhiata. Non è possibile. Quanti video 24 ore con quello, con l'altro e bla 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 fa? Che cazzo non se ne accorge che il suo microfono fa cagare. Se una persona ti vuole buttare giù, come dicevi tu, dipende da te non essere una mezza sego. Io per un motivo di prevenzione ho eliminato chirurgicamente quello che per molti era un difetto. Dopo le stronze che trovavano altro da commentare. E' giusto anche così, è giusto. Se ci sono delle cose che puoi correggere in qualche modo, oh va bene. Come quelli che si rifanno il naso, come quelli che si rifanno le tette, quelle robe lì, che si allunga il pipo, va bene. Se ti fa sentire meglio, buon per te. Se non riesci ad accettare te stesso e ti pesano così tanto le cose, ok va bene. Fatto per quello, va benissimo così. Ma prima bisogna cercare di, sai, lavorare un po' di più. Non riesci? Oh, va bene uguale. Poi dipende a che cosa devi aggiustare, ovviamente. Ciao Fenice! Gli ha urlato addosso. Ma cosa dici? Non avrai soldi per fare... Ma se hai soldi per rimpiantarsi la plastica in faccia. Fenice, probabilmente sì. Oggi ho 24... Sentite, sentite all'inizio come fa il microfono. Ciao Fenice, grazie, benvenuti in un nuovo video. Io sono già Marco e anche oggi ho 24 ore da passare con me. Però va tu a parlare in un microfono con quelle labbra. Persona incredibile. La persona di oggi è convinta, o meglio, mi ha raccontato la sua... Mi devo mettere da qualche altra parte con la telecamera, se no non riuscite a vedere Zagat, ok? Mi metto... Qua. La sua vita tra il pianeta Terra e un pianeta extraterrestre. Marco è convinto di essere frutto, o meglio, il figlio, tra... Ma dove li trova, Luis, i casi umani? Un alieno e un terrestre. La sua vita è particolarissima. Quello che mi ha raccontato via email mi ha lasciato letteralmente sbalordito. E me ne ha mandate varie nel corso dei mesi. E tutte le volte l'ho ignorato. Un po' perché non volevo credere a quello che raccontava. Un po' perché pensavo fosse troppo surreale. Però a un certo punto... Non ridere! Chiamiamolo. Ho fatto una telefonata con Marco. Sentire dalle sue parole quello che vi racconterà tra poco mi ha lasciato letteralmente sbalordito. Vi ritroverete a chiedervi anche voi se forse una parte dei vostri familiari, dei vostri amici, non è poi così tanto terrestre. Non dimenticatevi di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e giù nei commenti voglio sapere assolutamente la vostra opinione. Già, spero sulla mia opinione. Il like lo metto alla fine del video e se non hai già iscritto al tuo canale, ok? Mi raccomando, leggi il mio commento però! Oggi conosciamo un alieno. Ok. Il video che state per vedere è una versione estremamente censurata e ritagliata dell'intervista a Marco, un nome fitizio scelto dal protagonista per mantenere la sua privacy. Questa versione è stata modificata rimuovendo vari elementi della sua vita privata per tutelare la sua riservatezza e per consentirli di trovare maggiore serenità. Dopo l'intervista Marco era estremamente agitato per quanto aveva raccontato, pertanto in accordo con le sue richieste l'intervista è stata ampiamente editata. Quindi se ne ha pentito dopo aver raccontato robe. Tuttavia di comune accordo abbiamo deciso di pubblicarne una versione e se Marco un giorno lo vorrà pubblicheremo la versione completa. Porga troia! Raga, qui bisogna guardarlo con molta serietà sto video. Vic non farà mai una collaborazione con te per ridere pure, anche perché mi unfollow se trovo una collab con tizia microfono che cade. Cazzo, è molto serio allora. Chi ride è fuori. Anche chi è più basso di un'ottanta fuori. Da quanti anni hai scoperto di essere un alieno? Ho scoperto di essere un alieno a 25 anni. Ora ne ho 30, quindi 5 anni fa. Quindi a 25 anni tu hai questo scoperto. Me lo racconti cosa è successo? Sì, in pratica era una sera. Facevo una passeggiata per le campagne vicino alla mia abitazione. Ho notato una luce molto forte e mi sono avvicinato per vedere cosa fosse perché ero incuriosito. Questa luce dove era? Era in un campo, c'era una luce molto forte. Inizialmente sembrava come se fosse una macchina agricola. Ma avvicinandomi sempre di più mi sono accorto che non era così. Era una macchina strana, l'avevamo visto in una roba del genere. Aveva delle forme strane? Aveva una forma tipo ovale ed era posizionata in un campo dove non c'erano alberi. Si era strafatto di qualcosa, sicuro? Non c'era nessuno con te arriva solo? Io ero da solo, ma vicino a questa macchina c'erano delle persone. Non ci sono testimoni, quindi... Incuriosito mi sono avvicinato per chiedere cosa stesse accadendo. Avvicinandomi sempre di più mi accorgo che queste persone iniziano a parlarmi, ma la loro luce era direttamente nella mia testa. Cioè telepaticamente ti parlavano? Sì, loro comunicavano con me telepaticamente. Cosa ti hanno detto? Loro mi hanno detto che erano una razza aliena e che non dovevo spaventarmi, anche se l'ho terrorizzato. Non è che sia? Ti hanno detto che razza erano? Sì, si chiamavano le ziluriti. Ok. In questo frangente loro ti con... Allora, adesso ragazzi, va bene tutto. Va bene tutto. Puoi avere anche un'esperienza mistica. Ma tu, prima cosa che cazzo ci fai lì in giro di notte, non ho capito, ok. Vedi delle robe che... Cioè, in base a quello che ti è successo, come fai a ricordarti come si chiamavano in una situazione così delicata? Come fai a ricordarti il nome? Zio lorito. No, cioè, in una situazione così... Sai, se fosse vero, è un momento un po'... Che ti fa venire, sai, l'ansia o quello che è, agitazione. Ma come fai a ricordare un nome così complicato? Sì, terrorizzato. Come il normale che sia. Ti hanno detto che razza erano? Sì, si chiamavano gli ziluriti. Ok. In questo frangente loro ti comunicano qualcosa. Non leggo ad alta voce quello che ho detto. Cos'è però, penso che ti abbia lasciato sotto il shock. Sì, loro in pratica mi hanno detto che io riuscivo a capirli, riuscivo a comunicare con loro, perché facciamo parte della loro razza. Ok. E mi hanno detto che hanno fatto in modo che io venissi concepito sulla Terra, perché ho un compito da svolgere. Eh, che compito? Non me l'hanno detto. Devo scoprirlo con il tempo. Quindi tu saresti un alieno? Nella Terra? Io sono parzialmente alieno. Ok. Sono stato concepito sulla Terra e quindi sono metà un essere umano e metà un alieno. E tua madre sarebbe l'essere umano, giusto? Sì. Tuo padre invece è un alieno, uno zil... Come hai detto che si chiamano? Ziluriti. Zilurita. Ziluriti. Tutto questo accade cinque anni fa in questa campagna. Penso che sul momento sia stata una roba scioccante. Come ti sei sentito? In realtà, lì per lì, ero terrorizzato, ma quando mi hanno detto questa cosa mi sono sentito sollevato. Ah. Perché sollevato? Perché avevo sempre avuto questo presentimento di essere diverso, di avere qualcosa di diverso, di appartenere a un'altra realtà. E quello me la... Chiariamo perché qualcuno potrebbe fraintendere il video di Zagato. I neri non sono alieni. Esatto. Bravo. Che te l'hai specificato. Ciao, Emma. ...ha confermato. Cosa? Aspetta. ...di appartenere a un'altra realtà. E quello me l'ha confermato. È stata confermata la mia vera identità. Ok. Quindi, tua madre, in tutto questo, cosa gli è successo? Quindi, è stata scelta? È stata rapita? Mia madre è stata selezionata perché risultava... Ma che trip mentale si è fatto questo? Oltre al trip vero e effettivo. Mi sa che è andato in bed trip questo. Si è fatto tutto il viaggio e è rimasto fuori per gli ultimi cinque anni. Credendo di essere messo su questo mondo per una missione datali da degli alieni. È grave. ...spatibile con la genetica del mio padre alieno, affinché potessi essere concepito. Ma lei ti aveva mai parlato? Cioè, ti aveva mai detto qualcosa? Purtroppo mia mamma è mancata quando io sono andato, quindi non sono mai riuscito a parlare con lei. Tranquillo. Però il padre è un alieno, ha detto. E il padre dov'è? Hai mai potuto incontrare tuo padre alieno? Quelli che mi hai mandato? Non ci sono... Non ancora. Non l'ho mai... Non l'ho mai incontrato. È una cosa che vorresti fare, però? Certo. E come ti senti nei confronti del tuo padre terrestre? No, non ne voglio parlare. Tranquillo, io... Io ti faccio delle domande. Però stavolta vedo Zagato un attimino più a disagio. Deadly alien, sì. Alien è smash, molto smash comunque, ragazzi. Sì. Però lo vedo più agitato stavolta, Zagato. Io una volta sono stato catturato dagli alieni, ma hanno visto che sono 1,60 e mi hanno rilasciato. E poi se tu non mi vuoi rispondere, non è un problema. E possiamo andare ad un attimo. In maniera che tu sia tranquillo e voglio ammettere il tatuaggio. Da bambino? Come è stato? Cioè, come ti sentivi? Come vivevi questa cosa? Perché tu mi hai detto che hai sempre avuto un po' la sensazione. Sì, diciamo che l'ho scoperto non proprio da bambino. È tipo smash 1,80, sì. Venom è molto... Eh, Venom. Anche Venom è smash. Alien. Anche smash. Però non credo sia 1,80, sia tipo almeno 2 metri. Se non di più. Aspetta, silenzio. Un adolescente ho scoperto, non proprio da bambino, ma abbiamo avuto un adolescente quando l'ho scoperto. Ho iniziato ad avere questo presentimento. Poi tu non hai avuto la certezza, però va, 25 minuti. Esatto. Ho avuto la certezza poi con quell'evento. Come ti senti da adolescente? Come la vivevi questa cosa? Da adolescente ho iniziato a distaccarmi un po' dalle altre persone. Ma non è possibile guardare un video serio di un'intervista di un ragazzo alieno che voi scrivete sta roba in chat. Sia Venom che Alien sono neri, sono l'ieri. No! No! Proprio perché ho iniziato ad un evento. Aspetta! Ho avuto la certezza poi con quell'evento. Come ti senti da adolescente? Come la vivevi questa cosa? Da adolescente ho iniziato a distaccarmi un po' dalle altre persone. Proprio perché sentivo che ero diverso. Ho iniziato ad allontanarmi dagli amici, ad isolarmi sempre di più. Ho davvero pochi amici. Poche persone vicine. Sì. Proprio perché le altre persone non mi comprendono, non riescono a capirmi. Tu quindi ne... No ragazzi, siamo parlando dei pezzi di merda. Poverino si sente disagio. Possiamo ammettere al proprio agio lui? Noi ragazzi siamo qui. Immaginate lui che sta lì davanti a noi seduto a parlare. Noi siamo in un'aula. Siamo boi, non so quanti siamo. Tipo trenta boi. E... Stai facendo casino, non va bene. Portiamoli rispetto. Parli della tua natura? Di quello che ti è successo? Della tua realtà? Sì. Mi ho parlato ai miei amici più stretti. Alcuni mi hanno compreso. Altri mi hanno preso per pazzo. E non mi hanno accettato. Nell'ultimo telefonata che abbiamo avuto, tu hai insistito tantissimo per dire una cosa in video. Un messaggio. Che a me non mi hai ancora voluto dire. E quindi credimi sono qua, dall'inizio di questo video, in attesa. Cosa vuoi dire a tutti quanti? Sì, il messaggio principale che vorrei comunicare è quello. Ho molta paura. Potrebbe in qualche modo manipolarci il cervello. Ci potrà essere un'invasione aliena. E noi saremo i primi ad essere rapiti. Ho paura a sentire il messaggio, raga. Però che bisogna aprire gli occhi. E che un incontro con gli alieni sarà imminente. Ve l'ho detto! L'ho appena detto! Mi sa che siamo fregati, eh? Raga, Gabri c'è ancora in chat che prende i biglietti ad aeree e lui ci porta, non lo so, da qualche altra parte del mondo. Scappiamo tutti. Io una volta ho visto un alieno, però. Io una volta credo di aver visto un alieno. Però probabilmente era semplicemente, non so, era qualcosa. Ero un vicino. No, in realtà, raga, una volta mi è successo. Ero in Italia. Sul terrazzo in alto, in alto. E erano tipo circa le otto di sera d'estate. Stavo preparando il tavolo per la cena. Stavamo portando tutto fuori. E ad una certa... Avete presente quando sono tipo le otto, nove, che già inizia a scendere il sole. Quindi c'è ancora luce, ma un po' meno. Bu, con la coda dell'occhio, ho visto una presenza verde passare in parte. E ho pensato fossero gli alieni. Ve lo giuro. Tipo una roba che è passata di vostra veloce... Una roba verde. E mi era rimasto impresso per un botto di anni sta roba, perché pensavo fossero gli alieni. Dite che erano loro? Non mi ero fumata nulla, non mi drogavo ancora. Non lo so, era strastrano. Non ho mai capito che cosa fosse effettivamente. Se era un'allucinazione mia mentale, se era un effetto visivo di qualche tipo, se erano davvero gli alieni, se era... Qualcos'altro. Se è verde non può essere un alieno. Però era una roba strana che ho visto con la coda dell'occhio. Ti presenta quando con la coda dell'occhio ti sembra che passa qualcuno? Ma tu non sai chi è, perché non lo stavi effettivamente guardando. Quindi boh, secondo me era un alieno, raga. E mi sa che lui... Cazzo, ma magari ha dato così tanti anni, magari le prime presenze che sono state selezionate, magari... Oh oh, ciao Kronos. Ok, risentiamo. Un messaggio che a me non mi è ancora voluto dire, quindi credimi sono qua, dall'inizio di questo video, in attesa. Cosa vuoi dire a tutti quanti? Sì, il messaggio principale che vorrei comunicare è quello che bisogna aprire gli occhi. È che un incontro con gli alieni sarà imminente. Entro il tempo massimo di cinque anni. Mi descrivi meglio così. Raga, altri cinque anni. Dobbiamo organizzarci. E tipo io entro in una casa abbandonata o anche a una stanza buia di una casa normale, invece di percepire silenzia e tranquillità percepisco energia. Lì è un'altra cosa, non so a che cosa è dovuto, però sì. Comunque dovrebbe dare una prova. Come facciamo a sapere che sia un alieno? Io so che gli alieni ce l'hanno lungo due metri, come minimo ci deve fare vedere. Leo, tu guardi il pipo degli alieni? Cosa? Ma è un alieno? Allora Drake è un alieno? È Drake che deve invaderci? Oh mio Dio, ti immagini? Drake fa... Sono un alieno, ci conquista tutti quanti. I ziroriti, come sono? I ziroriti hanno le sembianze simili agli umani. Se tu incontri per strada non hanno assolutamente niente di diverso, se non il fatto che hanno degli occhi leggermente più grandi rispetto a noi. Ma sono davvero simili agli esseri umani. E loro dove che stanno? Loro sono in giro, sparsi per il mondo, gli incontri anche spessi. Quindi nella Terra ce ne sono moltissimi? Sì, sì certo. Non so. Tu zagato sei uno di quelli... Ma nella Terra abbiamo anche altri alieni di questi ziroriti? Sì. E li riconosci mai per strada? Tipo Saiyan. A volte mi capita uno scambio di sguardi, di capire che c'è qualcosa in loro. No raga, questo è rimasto fuori. Non voglio dire cose orribili, però potrebbe essere che da piccolo è caduto, ha picchiato la testa ed è rimasto così. Non voglio offenderlo. E non voglio scherzarci su sta cosa. Ma secondo me è vero. Potrebbe essere... Potrebbe essere... Non voglio essere una persona orribile, però mi sa che è così. C'è no, non me lo spiego. È simile a me. Hai mai incontrato fisicamente qualcuno come te, parzialmente alieno, e gli hai detto so quello che provi? No, perché ho sempre un leggero timore. Grosso, stiamo guardando la testimonianza di un alieno. Scusa, sei il mio alieno. Ci sta parlando che gli alieni ci stanno raccontando la sua esperienza. Vorrei parlare di questo, anche se so che magari qualcuno potrebbe comprendere la mia situazione. No, chi potrebbe... Chi? Un altro zigolorote? Com'è che si chiama? Zigo... Omigo zigote? Omigo zigote. Ma adesso che dico una cazzata, e ridono le mie stesse cazzate. Aiutatemi. Non ce la faccio più che cosa stiamo guardando. Ok. Tutta questa cosa ha compromesso. Ah, non far cosa? Magari la mia situazione può... Anche se so che magari qualcuno potrebbe comprendere la mia situazione. Magari la mia situazione può essere simile a quella di altri. Però tendo a non farlo. Tutta questa cosa ha compromesso la tua vita personale? Sì. Sono cambiato molto da cinque anni a questa parte. Sì? Sì. In meglio o in peggio? In peggio, ma sto meglio con me stesso. Nel senso che, allontanandomi da tutte quelle persone che non mi hanno accettato, ho iniziato a dedicare molto più tempo a me stesso. Mi racconti... Come funziona la tua vita? Che lavoro fai? Sono un freelance. Mi occupo di informati. Ah, ok. Monchers. Tutto questo con il tuo lavoro l'ho compromesso? Io con il mio lavoro fortunatamente lavoro da casa quindi non ho molti contatti con le persone fisicamente quindi questo distacco diciamo che un po' mi tira sul morale. Secondo te c'è un motivo per il quale la razza aliena da dove provieni non ti ha portato via con sé? A parte il tuo compito di cui non sappiamo cosa devi fare. C'è una questione politica tra la razza aliena da cui provengo e un'altra razza aliena che sono i cranoxiani. Ok. Sono diversi dagli ziloriti. I ziloriti sono una razza molto pacifica mentre i cranoxiani sono una razza che tende alla conquista all'espansione della loro razza e quindi c'è questa questione politica che ferma i ziloriti a venire a prendere e portare indietro. Scusami un attimo questi cranoxiani quindi hanno intenzione di attaccare la terra? Sono interessati al nostro pianeta perché lo vedono come una risorsa molto importante. Raga noi ridiamo e scherziamo ma se fosse tutto vero e se fra cinque anni veniamo veramente invasi da degli alieni e quando dovesse succedere se succederà noi ci ricorderemo di questo giorno in cui abbiamo visto sto video e abbiamo riso. Vi immaginate? Che hanno contagiato? No raga è grave. ma se gli alieni fossero tipo di nani? Dai raga li distruggiamo dai li distruggiamo in tre secondi ma se fossero tipo un botto un'invasione tipo le formiche che sono stratante ma sono tipo nani ma nani nani adesso prendi in giro anche questi cattivi se hai coraggio devi rivederti l'ora precedente Novi qui la cosa è tragica sai quando gli algoritmi di autoprendimento hanno iniziato a dimostrare l'intelligenza coincidenza l'invasione è già in atto però lui fa l'informatico forse è quello che intende no immagina 800 miliardi di gnometti che corrono ovunque eh da conquistare ma quindi hanno intenzione di attaccare la terra sono interessati al nostro pianeta perché lo vedono come una risorsa molto importante da conquistare ma eh cosa c'è di importante sul pianeta terra come risorsa eliminando gli umani cosa intende il fatto che terra quello intende non ho altra informazione a riguardo ma secondo te questi cranoxiani sono un potenziale pericolo tra noi cioè tua opinione personale preferirei aggiungere altri dettagli perché ti verranno a prendere i cranoxiani a farti il culo potrebbe essere forse ha paura di loro è stato minacciato boh ma non lo possono proteggere gli ammazzigoti capito qui tu da cinque anni in questa parte stai aspettando questo effettivo compito ma tu non hai il minimo idea di cosa vogliono c'è di quale tu vogliono rubarci le gotiche colone cosa vogliono da me immagino gli alieni che vengono a prendersi tutte le gotiche colone che poi faranno soltanto i balletti per loro io credo di essere un ponte una connessione tra l'umanità e la loro civiltà prima mi hai menzionato che secondo te ci sono potenzialmente degli alieni tra di noi e altre persone che sono parzialmente alieni ma c'è quella figura famosa che tu dici si si è un alieno è uno dei miei si ci sono molte persone ma altre non sono proprio aliene ma sono comandate dagli alieni e loro non ne sono neanche consapevoli io potrei essere comandata da un alieno forse e anche voi non lo sappiamo nemmeno oh 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 non dire comandate per esempio ci sono molte figure politiche o nel passato ci sono stati dei personaggi storici come per esempio molti scienziati quindi mi riferisco a tutto lo sviluppo tecnologico che c'è stato negli ultimi anni cioè cosa vuol dire che sono comandati molti di loro sono di origine zilorita gli scienziati sì perché molte conoscenze umane ma anche la nostra posizione su questo pianeta nel senso noi siamo l'essere più intelligente del pianeta questa cosa è stata favorita dalla loro presenza dalla loro dal loro costante avvicinamento quindi noi siamo sempre stati in basi degli alieni in un certo senso sì davvero sì provo a pensare a Gesù Gesù non è alieno se tu provi a immaginare a ricordare Gesù è una persona che era dichiarato come un essere umano ma Dio era figlio di Dio e quindi era un'entità che non proveniva direttamente da questo pianeta oddio se la vedi così ci sta ma quindi secondo te Gesù era un alieno sì ne sono convinto se tu pensi della scienzione no no lui è 5 anni che sa di essere un semi alieno a 25 anni ha avuto questo incontro mistico e e basta ma che cazzo dice però non immagini come se un'entità proveniente da un altro pianeta è venuta sulla terra e l'ha portato via ah l'ha prelevato è stato lui è stato prelevato da una navicella aliena ed è stato portato in un altro pianeta ma se provo a pensare anche a tutti i riferimenti che ci sono scritti nei libri sacri tutti i riferimenti al regno dei cieli a me viene in mente di pensare a qualcosa che si trova altrove non su questo pianeta quindi tu pensi che in realtà anche il concepimento di Gesù era un esattamente la tua esperienza si ma non puoi parlarci di Gesù che manco sappiamo se è veramente esistito adesso scusate cattolici cristiani e cose di questo tipo però tutti quelli che credono in quello va bene ma può dirci qualcosa di concreto perché adesso ci parla di Gesù dai è come veramente dire ok io domani mi sveglio e dico siccome Gesù era invece un dinosauro e trovo tutte le robe che potrebbero collegare alla mia tesi al fatto che lui era un dinosauro non ha senso dove sono le prove tu quindi pensi di essere un po' come Gesù si ma io devo ancora scoprire il mio vero il mio vero compito io ho paura c'è stato male un momento in cui hai dubitato di tutta questa storia sì in realtà all'inizio sembrava come se fosse qualcosa di irreale un sogno che avevo vissuto quindi ho provato a nascondere a me stesso anche a autoconvincermi che questo non fosse vero però non posso negare a me stesso la mia vera natura è una domanda brutta questa secondo me a fare vai e non voglio che ti offendi se tu dovessi metterti nei panni di chi ti ascolta ti ascolteresti o diresti è un pazzo io mi ascolterei ed è quello che fanno di solito le persone o di solito dicono il contrario che sei pazzo la maggior parte delle persone dicono che sono pazzo c'è qualcosa che secondo te si potrebbe dire alle persone per fargli capire che forse sei più da ascoltare cosa gli diresti io direi semplicemente che quando io parlo di me stesso è perché nella mia testa c'è questo ossia c'è questa convinzione che ho una certezza e della mia natura quindi non avrei un vantaggio a farmi prendere per pazzo se non avessi un motivo giustissima affermazione ma nessuno l'ha detto mai vai ad uno psicologo nessuno l'ha mai detto di fare sta roba va bene ragazzi ci vediamo fra cinque anni faremo l'update fra cinque anni se siamo stati invasi dagli alieni o no ok ricordatemelo nel 2020 9 nel 2029 no aspetta si qualcuno può mettere un timer non un timer un promemoria molto strano cosa dico alle persone nei commenti ok c'ho una certa vika paterjvod che ha scritto questo commento un po' strano ecco vedi le voci le sentiva anche mia madre dopo poco è stata ricoverata in una struttura di igiene mentale ragazzi non ci scherzate con queste cose dietro si possono nascondere delle gravi difficoltà che se non affrontate con uno specialista bravo possono degenerare assolutamente il fatto che il ragazzo sia orfano di madre e abbia problemi con il padre mi fa pensare che tutto ciò sia un modo per scappare dalla realtà crudele che sta vivendo e non sa come affrontare l'ho pensato anch'io alle volte nascondersi dietro a qualche cosa immaginaria si può dare la percezione di essere diversi e di affrontare e vedere le cose della vita in modo distorto come in questo caso sono d'accordo al 100% o sta cosa questo commento cosa dico alle persone ah si parla della mamma mia avete fatto un film già tutto non si sa mai se è vero o no ma se invece corrispondesse a realtà non c'è mai ma che cazzo di qualcuno ci crede sono sotto shock comunque adoro l'educazione di Jan durante questa intervista riesce sempre a mettere a proprio agio le persone intervistate beh questo vero è stato interessante anche se era assolutamente sembrava molto convinta questa persona rispetto al video che avevamo visto l'altra volta che era con dove era lupi lei anche lei mi sembrava abbastanza convinta però questa è tra le cose un po' strane così che dici ma che cazzo quella è la cosa dell'alieno era la più interessante per ora questo invece è stato il più normale che sembravi ci stava ha raccontato di quello che fa e non è poi niente di dal titolo sembrava una cosa un attimino più strana rispetto ai video che sappiamo che lui fa di solito e le persone che intervista ma in realtà era normale che stava che stava che stava per l'alieno che stava che stava